Salve a tutti friends dal vostro supercorris Raga eccoci qui Ho capito perchè ci sta a fare vedere la mazza Siamo tornati su Gran Turismo Friends vi è piaciuto tantissimo il filone dove prendiamo supercar o hypercar E le prepariamo molto bene E io direi di fare subito questo oggi friends Premettendo che vi ringrazio perchè stiamo crescendo ovunque raga Sui social, su youtube, su twitch Stasera live su twitch vi chiedo scusa raga perchè ieri veramente C'ho avuto un attacco di raffreddore mi cola ancora il naso Non riuscivo neanche a respirare quindi sarebbe stata una live oscena Questa sera si torna in maniera molto lercia A fare una bella live su twitch Quindi raga preparatevi Perchè ci divertiamo Allora brand central Brand central Chiamiamolo mai cazzo mi pare Allora raga vi faccio vedere subito la macchina che voglio prendere Non so neanche se si possa preparare Perchè su questo gioco certe vetture non si possono proprio preparare Però già c'ha abbastanza cavalli raga Ve la faccio vedere subito Eccola qui Tadà Bugatti Vision Gran Turismo raga Stiamo parlando di una vetturetta di 1400 kg per 1649 cavalli Il 49 potrebbe diventare proprio i 50 Eccola qui raga Vettura pazzesca Andiamola a prendere Vediamo i colori che ci sono Io quasi quasi la prenderei Blu 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 dai Bugatti è blu Giustamente Atteniamoci alla storia Vai Yes Raga sta macchina fa male Poi la proveremo come sapete Come sarà consuetudine A fine video andremo sul circuito della 24 ore di Le Mans E la proveremo in rettilineo a vedere quanto cacchio va questa macchina Sperando di poterla preparare Ma già con 1600 cavalli France penso che sarà una vettura comunque Che sforerà tranquillamente i 400 km orari Ci mancherebbe pure Ragazzi è proprio un campionato dedicato a queste vetture Andiamola a vedere Anche non so neanche dove sono entrato Ogni tanto mi perdo Eccola qui Vision GT ragazzi Un campionato dedicato a tutte queste macchine un po' particolari Porca vacca raga 150.000 euro di Cacchio Interlagos Dai ci andiamo a provare Interlagos raga Pista di Formula 1 Non so veramente vedo un Audi Non so neanche quali siano le categorie con cui correremo Però andiamoci a divertire con questo campionato Vision GT E dopo velocità massima della nostra vettura Andiamo Eccoci qua friends Vediamo le vetture con cui correremo Ci sono delle Mercedes Ci sono la Fittipaldi che non so che Vabbè le vediamo in gara dai Che elettoncino Allegro allegro Sarà molto difficile tenerla questa Madonna santa raga Non gira neanche il rettilineo Minchia raga Madonna santa Spara da pazzi C'è la miseria raga Raga non si può guidare Penso che sia evidente la cosa Madonna mia Alziamo il traction perché è inguidabile Guardate quanto cammina sta macchia Di quarta a 300 raga Oddio Madonna santa Raga è inguidabile È inguidabile raga Probabilmente era meglio provarla alle man Oh Le minchia vai Madonna che cacchio è questo raga E ci sta uno specchio all'interno del cruscotto Bella dentro Molto moderna Però Raga non frena e non gira In una pista di Formula 1 Veramente non è l'ideale Si avvicina Super Coris Ha un qualcosa di quadrato Che c'è davanti Madonna che mostro Friends E vai riusciamo a fare un sorpasso Va dritto Ragazzi ci prova a levare il traction Niente Raga è Ai limiti dell'inguidabile Si acceglie Arriva dritta Quindi in curva Tassativamente Non si può accelerare Drs Non ho capito Le cacchio sia Sta macchina Proviamo a vedere Se riusciamo a fare Qualche sorpasso Niente In curva Non ne vuole sapere Ai 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 Una sopra Vision Che non mi sembra neanche tanto estrema Questa sopra Madonna raga Madonna raga Che fa sta macchina Questa spara a botte Dai fare a led Madonna che cazzo di categoria Io la definirei categoria Cyberpunk 2077 Questa raga Sembra un po' Dai dite la verità Vabbè raga Vabbè raga Proviamo a fare qualcosa In rettilineo Oddio Quante cazzo di marce C'ha 7 Raga Qua per fare le curve Bisogna iniziare a frenare Dal rettilineo Dal Abbassato il traguardo Dove di solito Si è ancora In piena accelerazione Dai Leviamo il traction Siamo folli Ah Ho superato Mi sembrava una merce Adesso non lo so Che cazzo era Madonna raga Madonna raga Ah Ingridabile Un'altra sopra Ah Una McLaren Che cacchio di macchina Questa Questa è veramente uguale A quella di Superbank Raga La gara più lercia Che ho fatto Su Gran Turismo Sport Fino Finora Niente raga Dobbiamo attaccare il traction Non so Ne facciamo le curve Prova Super Coris A recuperare qualcosa Raga Il problema È che Non c'è guidabilità Aia I freni Non mantengono Cioè Non frena Cammino anche Nello serrato Ah Raga È guidabile Guardate che Quattro marmittine Piccole Che c'ha Madonna che fa L'alettone Raga Guardate che storia Raga È una vettura Inguidabile Madonna mia Bella da vedere Mostruosa Quello che volete Però La definirei Proprio Inguidabile Cioè Questa è una vettura Solo da rettilineo Ah Le alette Che in curva Non servono Assolutamente A una cippa Cerchiamo di capirci Qualcosa in più Dai Non gira proprio Cioè È rigida Come Non lo so Molto rigida In frenata In frenata Si imbarca E con un'altra Presumo McLaren Visionaria Guardate la grafica Che bella Guardate gli effetti I riflessi Dopo capire Perché mi arrabbio Su giochi tipo Cyberpunk Non perché Volevamo Fosse un gioco A livello E PC Però ragazzi Dovete anche capire Che perlomeno Si poteva rendere Godibile Anche visivamente Pure su Console Old gen Dai ragazzi Noi ci apprende Il primo posto Oh Ho sbagliato Friends E beh L'ho recuperato Guardate Non gira Guardate qua Io giro Lei rimane dritta Madonna mia Bisogna stradosare L'acceleratore In curva Per evitare Di ammazzarsi Che cacchio È questa Una zonda Forse Lamborghini Non si capisce E comunque Ragazzi Bugatti Conferma La regola Che tanti cavalli Se poi non sono Ben sfruttabili Sono inutili Io penso Che con una Ferrari Una Rambo Una McLaren Su questa stessa pista Con meno Della metà Dei cavalli Con un terzo Dei cavalli Si farebbe meglio Di questa vettura Basterebbe una 488 E le farebbe Vedere i sorci verdi A questa Anche una Huracan E non è che Lo dico io Ragazzi Purtroppo È inguidabile Aia Guardate qua Adesso Mi voglio vedere In frenata Che fa l'alettone Fred Madonna Come si alza Taglia Taglia la curva Supercorsa Minchia ragazzi Sono a 18 secondi Dai Andiamo a riprendere Il primo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti eccoci qua ragazzi abbiamo ripreso il primo che cazzo di macchina non si capisce siamo una vettura della 24 ore di Le Mans mamma mia quanto è particolare ah una Mazda quella che stiamo vedendo prima il gioco già se l'immaginava dove saremmo andati a parare basta supercorris ragazzi un disastro siamo usciti di strada abbiamo avuto mille problemi una vettura inguidabile ma non per qualcosa friends è proprio inguidabile cioè in molti punti non fa le curve è un'accelerazione mostruosa raga quando si accelera veramente non lo so non lo so che cacchio gli succede prende il largo supercorris ci facciamo pure il rally raga doppiamo solercio qua cioè guardate raga proprio non le fa le curve potete frenare quanto vi pare facciamocelo così l'ultimo giro oh mamma mia guardate quanto cammina quando si accella no 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 sti infami ci vanno uscire di strada bella pure all'indietro la grafica guardate che roba sto gioco uno dei pochi che rifinisce tanto anche la visuale posteriore madonna raga inguidabile oh dove va questo per campi e vai ci sono vetture che si girano bello vedere che oddio bello vedere che è una categoria raga dove tutte le vetture sono molto stabili e prestazionali in curva madonna mia va meno male è finita e vai siamo andati a vincere questa gara allora raga piccola disamina sulle prestazioni c'è una potenza spaventosa molto superiore alla mercedes che abbiamo provato e chiaramente i cavalli sono già 650 di più lievemente quindi è chiaro però raga a livello di tenuta di strada zero e anche a livello di frenata lasciate perdere una vettura inguidabile adesso andiamo a preparare friends andiamo a vedere un po' cosa gli si può fare sperando che si possa preparare perché per esempio la mercedes f1 non era modificabile e sarebbe veramente bello raga se si potesse preparare perché non oso immaginare a quanti cavalli arriva ecco il nostro garage friends abbiamo vinto oggi questo cesso di mustang gruppo 4 raga c'era anche una vettura della 24 ore di Le Mans speravo di prendere quella e di non doverla comprare ciao invece allora raga eh sapevo io sapevo io però possiamo possiamo ridurre il peso possiamo ridurre il peso o no no raga qua si può solo niente raga non si può modificare nulla eh lo sapevo io perché chiaramente una vettura del genere se si può anche modificare qualche parametro vola raga eh non fa niente livello potenza massimo va bene così da buoni ghiottoni ce lo andiamo a provare in pista dai andiamo a vedere che fa sta macchinetta in pista allora raga eh prova a tempo vamos alla playa diceva un amico mio una volta senza chicane a mezzogiorno come sempre no no auto del garage cicciopastì dai raga andiamo a vedere cosa fa questa vision bugatti pazzesca sul rettilineo del circuito di Le Mans circuito della Sart sicuramont sarà Nukazine perché questa vettura è molto molto potente raga il record è diciamo diciamo 400 all'ora della Mercedes che l'avrebbe raggiunti peccato che è finito il rettilino io penso che questa raga non voglio dire cacchiate ma i 450 li potrebbe fare eh ah bello vado sta a guardare l'ettono posteriore allora passiamo tutto ma vogliamo bella grezza bella marcia bella potente cerchiamo di raggiungere il luogo della sfida senza gravi danni minchia raga c'è la frena a mano cerchiamo di raggiungere la frena a mano raga dai spazzolata di Supercorris già una vettura che brilla per guidabilità raga dai andiamo secondo me finisce il rettilino prima di poter tirare tutte le marce pure il DRS ci abbiamo la donna Franz già battuto il record 4 e 30 4 e 40 no no cazzarola 7 marce dai 4 e 50 4 e 50 4 e 50 dai vediamo se riesce a salire meno 4 e 60 madonna madonna che botta raga la voglio rifare madonna che bestia pazzesca perché ragazzi se non me ne uscivo lievemente di lato potevamo fare anche un ottimo potremmo raggiungere addirittura i 4 e 60 con questo mostro a questo punto mettermi in quadratura da fuori così riesco a vedere meglio dove si trova la vettura va bene va neanche il freno a mano funziona sta macchina madonna è guidabile anzi ma ci mettiamo pure un po' di traction per uscire subito bene dai dai ragazzi l'obiettivo è grande DRS che non c'è su questa vettura dai 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 ragazzi devo capire dov'è la semicurva 4 e 50 un'altra volta dai 4 e 60 su no cazzo ragazzi è rallentato di nuovo raga che dire un 4 e 55 pieno pieno quindi alla fin fine raga è una vettura che secondo me se il retinio fosse più ampio potrebbe tranquillamente arrivare sui 4 e 70 secondo me quella più nella velocità di punta che ha questa vettura vediamoci pure l'accelerazione da 0 a 100 raga eh raga da 0 a 100 non ha tutta questa prestazione riproviamo ho sbagliato eh dai eh ragazzi 0 a 100 siamo sui 3 secondi perché secondo me non riesce proprio a elargire la sua potenza però guardate che ci mette ad arrivare a 350 secondo me in 10 secondi siamo a 350 vettura pazzesca raga pazzesca friends dai vi ringrazio per la visione di questo video spero che vi sia piaciuto chiudiamo così com'è giusto che sia con un botto speriamo che vi sia piaciuto raga ci vediamo nei prossimi video anzi pomeriggio salvo imprevisti arriva la carriera con la McLaren tutti i belli ghiotti ciao ciao